Il senatore Vito Vattuone è candidato alle politiche per il 2018, ovviamente per il 4 marzo prossimo nella lista del PD nel collegio plurinominale. Vito Vattuone ha una vita politica, un trascorso di tutto interesse per quanto riguarda l'impegno, ma parliamo del suo impegno sul territorio questa mattina. Qual è la sua storia? La mia storia, a parte la primatività, risale al 1990 addirittura come consigliere comunale nel mio comune di Casarza Ligure. Ho fatto tutto il percorso netto rispetto all'impegno politico e amministrativo, partendo dal comune, arrivando alla provincia, poi alla regione e adesso al senato. Questi cinque anni sicuramente sono stati molto impegnativi, ho imparato tante cose, ho avuto la possibilità di avere incarichi anche importanti a livello nazionale e a livello internazionale nel campo della difesa, come capogruppo in Commissione di Difesa e come membro dell'Assemblea della Nato a livello internazionale. Questo è un po' il mio percorso in sintesi. Diciamo anche un po' con orgoglio e con forza perché arriviamo a conclusione di questi cinque anni di disillatura lasciando un paese migliore di quando l'abbiamo trovato. Questo non lo dico io, non lo diciamo noi, non lo dice il Partito Democratico, ma lo dicono i dati, gli osservatori economici, l'Istat, perché dopo tanti segni meno le condizioni economiche del nostro paese registrano dei segni più, perché i dati della crescita lo confermano. Se pensiamo che noi, se partiamo dal 2009, il rapporto debito-pile avevamo degli indicatori negativi con meno 5,7%, adesso registriamo dei più 1,5%. Quindi è con prospettive importanti perché abbiamo cominciato a ridurre il debito. Quindi il paese è certamente in condizioni migliori, per non parlare di tutta la partita che riguarda i diritti, perché abbiamo chiuso pagine che erano aperte da decenni, con il coraggio e con la forza in particolare dei governi, partendo da Renzi e poi con Gentiloni, abbiamo chiuso pagine importanti, come quella delle unioni civili, come quella del Biotestamento, con gli importanti provvedimenti sul dopo di noi. Quindi pensiamo e siamo sicuri di aver migliorato la qualità della vita di molti italiani. Abbiamo anche, perché tutti parlano, in particolare dal centro-destra, Berlusconi è 20 anni che ad ogni campagna elettorale dice che riduce le tasse, ma nel 2013 la pressione fiscale era al 43,5% dopo che Berlusconi aveva governato a più riprese almeno 10 anni. Adesso non è ancora sufficiente, ma possiamo dire che è al 41%. Loro presentano ricette che secondo noi favoriscono le disuguaglianze, come quella della flat tax, non hanno neppure la copertura finanziaria, oppure i 5 Stelle che presentano l'idea del reddito di cittadinanza su cui impegni e risorse che non ci sono, ma noi pensiamo che l'unico requisito per prendere un stipendio non sia la cittadinanza, ma dobbiamo avviare dei percorsi che aiutino a trovare un lavoro. Il reddito di inclusione che parte proprio a gennaio è partito sia uno strumento assolutamente importante che aiuta chi non ce la fa. Quindi non è che vogliamo rivendicare solamente tutto quello che è stato fatto, ma certamente lo vogliamo ricordare perché ci dà la credibilità delle cose che diciamo per il futuro del nostro paese. Non vogliamo fare promesse, soprattutto non vogliamo fare promesse che non reggono all'impatto del sistema del nostro paese. Siamo convinti del fatto che dobbiamo andare avanti e procedere con le riforme che abbiamo iniziato, comprese quelle sul lavoro, che non hanno ancora, come dire, c'è bisogno ancora di impegno, anche di modifiche rispetto a degli indicatori sulla precarietà che devono essere stabilizzati, ma possiamo dire anche qui con orgoglio che abbiamo sfondato i 23 milioni di occupati nel nostro paese. C'è stato un impegno anche nell'area Ligure, da parte del Partito Democratico, tra le altre tante cose ne vogliamo ricordare una che è la più importante, che è stato l'impegno sulla legge navale, che ha garantito risorse per 5,5 miliardi contro tutti, contro tutti, questa è una proposta che abbiamo firmato noi, che porta la mia firma rispetto alla legge navale e al sostegno a una delle più importanti realtà industriali che ha l'area Ligure. Proprio sabato è stata varata una fregata che fa parte di un programma italo-francese che comunque ha impegnato anche questa legislatura, in particolare la Commissione di Difesa è sottoscritto per implementare le risorse, quindi una realtà che è un punto di eccellenza che è impegnata a livello globale, un punto di eccellenza mondiale, che vive del successo del suo prodotto, le fregate che abbiamo varato, che finché antieri ha varato sabato, sono le migliori al mondo, sono interessati importanti paesi come l'Australia, come il Canada e tanti altri, quindi una prospettiva di lavoro importante che ha una visibilità di mercato almeno, che garantisce lavoro per almeno 10 anni. Il sito di Riva Trigoso è stato consolidato, addirittura c'è stata critica in passato rispetto allo smembramento di una parte, come quella della meccanica, è stata smentita dai fatti perché addirittura da Genova hanno spostato una parte della progettazione, gli impiegati sono venuti a Riva Trigoso, adesso c'è da consolidare bene, c'è da trovare le formule che garantiscono anche occupazione sul territorio, bisogna muoversi tutti innanzi della direzione, enti locali, enti regionali, azienda e sindacati. C'è un bel esempio in Friuli che penso che possa essere preso a modello, un accordo fatto che favorisce e fa incontrare l'offerta che fa l'azienda con la necessità di formazione e quindi dobbiamo trovare degli strumenti che garantiscano al territorio il ricambio e un'occupazione nuova. Comunque in generale sull'area Ligure l'intervento della legge navale ha garantito al gruppo di fincantieri di approdare in borsa e proprio in questi giorni il successo che ha sul mercato fincantieri della borsa. Ha favorito gli accordi con STX francese, quindi un'altra sottolineatura importante perché non ci facciamo comprare dai cinesi ma andiamo a fare shopping noi in Europa e questo è molto importante. Nell'area Ligure il gruppo ha un ricavo, nel 2017 ha avuto un ricavo di un miliardo e due che se utilizziamo gli effetti moltiplicatori ha garantito risorse sul territorio, ricavi per circa 5 miliardi. garantisce tra diretto, indiretto e indotto circa dai 12 ai 13 mila posti di lavoro quindi una realtà di successo importante e vogliamo con forza sottolineare l'impegno che abbiamo avuto sul territorio, in particolare il Partito Democratico per garantire le risorse sulla legge navale, ripeto, contro tutti, contro il Movimento 5 Stelle contro in particolare la Lega che non volevano e ritenevano questo impegno assolutamente secondario mentre invece è assolutamente prioritario perché rafforzare la nostra marina militare nel Mediterraneo è assolutamente prioritario perché è uno dei posti più caldi del mondo e se non facciamo noi il lavoro di sicurezza sul Mediterraneo ce lo fanno altri come facevano gli americani prima ma poi dobbiamo lasciare sul campo come dire, dobbiamo pagare in termini strategici, in termini di dividendi strategici sono stati importanti pegni ed è bene non farlo l'Italia è un paese tra i più industrializzati del mondo dobbiamo fare anche queste cose qua sul Mediterraneo dove transita il 25% delle merci mondiali è la seconda meta turistica al mondo con un giro d'affari di 50 miliardi sul turismo e di 500 miliardi sul transito delle merci e quindi dobbiamo essere in condizioni noi di proteggere il nostro territorio e di prevenire eventuali difficoltà lo abbiamo fatto con forza e per l'area Ligure ha garantito successo in termini economici per almeno 10 anni Parlando di territorio, proprio per chiudere perché il tempo sta finendo le chiedo che tipo di campagna sarà quella alla quale lei si sta apprestando considerando anche che la Liguria è un territorio dove forse il PD ha un pochino perso il suo successo storico Sì ma non ci vogliamo guardare alle spalle quello che è successo è successo noi adesso cercheremo di spiegare bene le ragioni per cui è importante votare il Partito Democratico e votare la coalizione di centro-sinistra lo vogliamo fare, ripeto, come dicevo in esordio senza fare promesse esorbitanti cercando di far capire bene alla popolazione le necessità del nostro paese le necessità della nostra regione e calandoci bene nella realtà perché diversamente e questo lo vogliamo fare con grande passione ripeto, non solo rivendicando non dico non rivendicando le cose che abbiamo fatto le vogliamo ricordare perché siamo gli unici siamo gli unici che possiamo dire le cose che abbiamo fatto e quindi penso che in campagna elettorale questo vada detto e soprattutto dare la speranza sul futuro per quanto riguarda diciamo il sostegno all'economia per quanto riguarda il sostegno alle famiglie certamente e cercando di coniigare bene come abbiamo sempre fatto solidarietà, sicurezza e futuro per le nostre popolazioni grazie a tutti